Nella mattina, in data di venerdì 7 marzo 2014, presso l'Istituto Banco di Napoli, Fondazione, ubicato in via Tribunali a Napoli, a pochi passi da Castel Capuano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Opera Domani 2014. In particolare è stato presentato il progetto Buon Compleanno Giuseppe Verdi, per la produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici per scuole primarie e secondarie di primo grado, e di AIDA, Amore e Coraggio, iniziativa che dopo 18 edizioni vedrà nei giorni 10 e 11 marzo al Teatro Politeama la partecipazione di circa 5.000 bambini, studenti di 40 scuole elementari e media inferiori di Napoli e provincia, prenderanno parte alla rappresentazione dell'AIDA di Giuseppe Verdi. Ai nostri microfoni intervengono il direttore artistico Capri Opera Festival Pasquale Amato e il direttore generale Istituto Banco Napoli Fondazione, dottor Aldo Pace. AIDA, Amore e Coraggio, un'iniziativa veramente molto importante. Sì, innanzitutto volevo porre l'accento sulla dedizione che l'Associazione Capri Opera Festival ha per i giovani, nei suoi eventi, nella sua storia ha sempre avuto l'attenzione a dare nuove opportunità, a dare visibilità ai giovani. Quest'anno, con grande sacrificio, abbiamo portato a Napoli questo evento che da 18 anni insiste in tutto il nord Italia, il nord e il centro Italia e finalmente siamo riusciti a portarlo a Napoli. Saranno coinvolti circa 5.000 tra bambini e genitori e interverranno ad uno spettacolo, a degli spettacoli che si terranno al Teatro Politeama di Napoli il 10 e 11 marzo, però i bambini per arrivare a questo spettacolo hanno seguito un percorso, un laboratorio con i loro docenti in classe per prepararsi a questi spettacoli ed esserne protagonisti perché loro saranno il coro dell'opera. Questa mi sembra un'operazione importante in un momento in cui la cultura viene bistrattata anche dalle istituzioni perché a quanto pare la storia dell'arte non si studierà più nelle scuole, i teatri chiudono e invece qui si dà un'opportunità ai giovani di capire un genere musicale a loro lontano e di dargli strumenti di conoscenza. Quindi è un'iniziativa che può dare un'educazione ai più giovani affinché amino con coraggio la cultura in tutti i suoi aspetti? Certo, sicuramente sì, però la cosa importante è che questo viene fatto attraverso un coinvolgimento attivo di questi giovani perché la cosa importante è stata dare loro attraverso dei laboratori, attraverso dei percorsi didattici, dare loro gli strumenti per capire fino in fondo che cosa andavano a vedere a teatro e dare loro anche la possibilità di parteciparvi attivamente. Dottor Pace, durante la conferenza lei ha voluto porre l'accento sull'importanza dello sviluppo culturale dei più giovani. È venuto il momento di far capire a tutti, una volta e per tutte, che la conoscenza è importantissima già nei bambini per diventare poi dei grandi cittadini. Io sono perfettamente convinto che questa sia la strada giusta. I sostanzi bambini sono da plasmare. È una materia vergine che come la plasmi così te la trovi poi inedato, adulta. Quindi anche attraverso l'insegnamento della cultura, l'amore, far nascere l'amore per la cultura, i bambini certamente un domani avrebbero dei cittadini migliori. Ora è un lavoro molto ma molto difficile, però bisogna perseverare. Fino al momento in cui non è che si ha la certezza di aver costituito e collaborato per avere degli ottimi cittadini, ma comunque bisogna tentare e perseverare. Qual è l'augurio dunque dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione? L'augurio del Banco di Napoli Fondazione è quello di un domani di essere cosciente di aver collaborato per far sì che questo obiettivo venga raggiunto. Questo è un piccolo passo, grande passo nel frattempo per la cultura di questa città? Ma guardi che Napoli è una città piena di cultura. Purtroppo non è che qualcosa con i massi media, per carità, però purtroppo i massi media danno molto più importanza a tutte le negatività della città di Napoli. Napoli dovrebbe essere una città ricchissima solo perseverando con la cultura e con il turismo. Purtroppo non sempre si riesce a raggiungere questi obiettivi.